Quanti di voi vanno al cinema domani? Quando ti svegli la mattina? Alle sei e mezza Quanto costa un caffè? Due euro e cinquanta Quanti animali hai? Un cane e due gatti Dove abiti? A Venezia? No, abito a Milano Come te rovi i nuovi vicini? Sono simpatici Quali libri stai leggendo ultimamente? Quanto stai in vacanza? Circa un mese Chi conosci in quella scuola? Solo Luca Quanta gente è venuta alla tua festa? Da quanto abiti qui? Da cinque anni Qual è il tuo cibo preferito? La pizza? Che lavoro fai? Faccio l'insegnante Quando hai finito la scuola? A 18 anni C'è qualcuno in casa o ti aspetto Ogni fine settimana ci riposiamo Alcuni insetti vivono un solo giorno Ho qualche speranza di vincere Conosci alcuni dei suoi amici? Ogni sabato vado in discoteca Faccio un regalo a ognuno di voi Alcune di loro sono molto belle Alcune di loro sono molto belle Qualche settimana fa ho viaggiato Conosco alcune parole in italiano Ogni giorno vado a scuola in bici Qualche volta Maria mente a tutti Alcuni di loro vanno al cinema Alcuni studenti studiano bene Mio cugino sa parlare lo spagnolo Io non conosco tanta gente qui Tu sai dov'è la stazione dei bus? Noi conosciamo un buon ristorante Loro non sanno il mio indirizzo Tu conosci il mio compagno di stanza? Chi conosce la città di Firenze? Non conosco nessuno in questa città So che lui si è diplomato Noi non conosciamo il tuo collega Io non so parlare il giapponese Io non conosco il giapponese Voi non sapete quanto ho pagato Oggi ho conosciuto molti studenti Tu sai come si cucina il pollo Mia zia conosce una ricetta buona Tu non conosci nessuno di Napoli? Lui non sa quanto guadagno Non so cosa ci sia in quella busta Ho visto un uomo che non conosco Il cane sa prendere una pallina Poco fa ho incontrato Roberto Luca guida l'auto da tre anni Sarò a Roma fra dieci giorni Due giorni fa è venuto Paolo Da quanto studi l'italiano? Fra un mese parto per la Spagna I bambini dormono da poco Fra due anni finirò la scuola Da quanto tempo conosci Marco? L'ho comprata nuova un anno fa L'estate inizia fra un mese Non vedo Sara da due giorni Ci sono già stato sei mesi fa Un'ora fa stavo lavorando Io ho avuto Io avevo Tu hai avuto Tu avevi Lui lei ha avuto Lui lei aveva Noi abbiamo avuto Noi avevamo Voi avete avuto Voi avevate Loro hanno avuto Loro avevano Mentre aspettavo il bus Ho visto un mio amico Non ti ho scritto Perché non ho il tuo indirizzo Mentre salivano le scale Hanno visto il professore Ho chiamato il dottore Perché non mi sentivo bene Ha chiuso la finestra Perché aveva freddo Ieri sera dopo la festa Eravamo molto felici Mentre andavo a fare la spesa Ho visto Lisa In vacanza Luca ha visitato posti molto belli Da bambina Ogni anno andava a Napoli La settimana scorsa Sono andato a Napoli Mentre studiavo Ha suonato il telefono Quando andavo a scuola Mi vestivo bene Il nipote gioca Lo zio ha una camicia blu La figlia gioca con le bambole La mamma prepara la cena Il nonno fuma la pipa Il papà va al negozio La nonna assaggia il vino Il figlio gioca a calcio La sorella si è tinta i capelli La nipote piange Il cugino dorme sul divano Il nipote è contento Il fratello cammina La cugina ha gli occhi blu Il gatto è sul pianoforte Sul pianoforte c'è il gatto Il biglietto è nella borsa Nella borsa c'è il biglietto I soldi sono nel portafoglio Nel portafoglio ci sono i soldi I vestiti sono nella valigia Nella valigia ci sono i vestiti L'orologio è nel cassetto Nel cassetto c'è l'orologio Il telefonino è sul tavolo Sul tavolo c'è il telefonino Il cane è nella cuccia Nella cuccia c'è il cane I libri sono nello zaino Nello zaino ci sono i libri Claudio è in cucina In cucina c'è Claudio Gli amici sono al bar Al bar ci sono gli amici Le chiavi sono in tasca In tasca ci sono le chiavi Le sigarette sono nello zaino Nello zaino ci sono le sigarette Quando vieni a casa mia? Ci vengo sabato sera dopo cena Se ci sei Hai comprato le cartoline Da spedire ai nostri amici? Purtroppo ce n'era solo una Ne compreremo altre tre dal tabaccaio Hai spedito gli inviti per la festa? Sì, ne ho già spediti più di venti Hai sentito quello che ha detto Claudia? No, qui c'è tanto rumore Ripetilo tu Quando vi siete conosciuti tu e Giorgio Ci siamo visti oggi per la prima volta Laura, ma non dovevate andare all'estero quest'estate? Dovevamo farlo, ma poi non ci siamo riusciti Luca, fino a quando sei rimasto alla festa? Me ne sono andato poco dopo le 10 Siete già andati al cinema? No, non ci siamo ancora andati Sai se Marco ha comprato i biglietti per l'aereo? No, non ne ha avuto il tempo Ci penserò io più tardi Avete trovato tutte le copie dei libri? No, ne abbiamo comprate solo 8 Vi hanno già raccontato come sono andate le cose? Sì, ci hanno accennato qualcosa Ma noi dobbiamo ancora parlare più tardi Quanti chili di mele avete colto? Ne abbiamo colti 5 chili Un coltello Dei coltelli Uno sbaglio Degli sbagli Una forchetta Delle forchette Un salotto Dei salotti Uno zio Degli zii Una cucina Delle cucine Uno psicologo Degli psicologi Un bagno Dei bagni Una camera Delle camere Una bottiglia Delle bottiglie Una sedia Delle sedie Una tavola Delle tavole Un bicchiere Dei bicchieri Un cucchiaio Dei cucchiai Un cucchiaino Dei cucchiaini Una forchetta Delle forchette Un coltello Dei coltelli Un ogniocco Degli gnocchi Un'automobile Delle automobili Un amico Degli amici Ogni mattina Alle 8 e 55 Esce con la giacca a doppio petto Tutta bottonata Il cappello calcato in testa Cammina dritto e senza distrazioni Fino al portone dell'ufficio Dove entra alle 9 in punto Attraversa l'anticamera Passa davanti ai tre sportelli per il pubblico Spinge la porta a vetri con una mano Togliendosi con l'altra il cappello Saluta i colleghi E va a prendere posto al suo tavolo Appena seduto Apre un registro Poi si accende la prima sigaretta E incomincia a lavorare Lento e preciso A presto Grazie a tutti.